Io ho freddo, lo scaldamento è spento Oh coi se mi piace quando ogni giorno la lava la mattina presto perché poi la mattina sai è un po' è un po' fresco la mattina no? Allora ci sta la lava Eh si al dom allora però io non voglio fare il jumper lo fai te Ehi ma porco Dio no 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 fai te perché tu sei più bravo ma non è vero Eh aspetta un attimo mi sa alla fine mi sa alla fine Perci buttarti adesso e beh se ti butti bene ci arrivi Vado Ma ti butti da questa parte io ho paura della merda ma cos'è sta musica nuova Ma non mi sembra Ah ok I sotto vanno però Due squadre Facciamo occhio Ah ma non fai occhio Dio io faccio orecchio Porco Dio Io passo in mezzo qua nel scrupolo Stacca stacca Io vado qua dritto Io vado qua dritto Ah ma sinistra Quindi non c'è un'arma Ok C'è una R45 E' bella Una speedfire meglio di un cazzo in culo C'è una Prowler Ma c'è una Prowler C'è una Prowler cazzo che voglio dirlo no or parla quello che lo sai usare Ma è vero Sì quando trovo un'arma si Doooon scouts Se vedete un'arma, un body shield, ditemelo Ho anche l'Ainvil, quindi se mi trovi un R301 me lo sbomberai volentieri Oh, l'Hongbo, l'Hongbo Ecco, c'ho un Avoc Eh, vuoi la Prowler o no? Eh, sì, se vuoi Posso solo dare uno scappolo E che no, un'arma che so usare R301 e l'Hongbo Però non ho un'arma Eh, eccolo, guarda qua Eh, ti posso dare l'Ainvil allora, hijo de mierda Cos'è? Vuoi? E se la trovo io, non do il cazzo, vera No, allora no Vai Ah, no, no, no E l'Hongbo me lo sbombo io Eh, ditemi se trovate un Select Fire Ma CCH, ma ce l'hai la Prowler No, ce l'hai te Oh, Dario, guarda qua Tu vuoi la vieni che te la do Roppola e la bingo Ho tirato il cio... T'ho ringato l'Ultimate Acceleron, zio Sentite di spari? Sì, deve fare un po' occhio Eh, rai, la prendo Allora Dio me uno Spitfire se vuoi, Sil Eh, Spitfire, che cazzo hai già? E' quello blu mitra... eh, 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 è porco Ah, sì Eh, ma allora l'Extended che cazzo me lo rubi, figlio di puttana Eh, 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 sei arrivato dopo Hico della merda, ok Non sa la regola che prima arriva meglio all'ora Oh, va bene, va bene No, ma quello Spitfire ti serve molto meno che la Prowler Quello l'ho fatto Faramega tanti colpi Questo non ti serve Sono già a livello 3, zio, dai Eh, ma tu stai di un bene, zio, che la metà Andiamo in questa direzione qua, allora Eh, facciamo il trucco di andare al centro di cerchio prima possibile Eh, eh, cominciamo a morce adesso, dai Vuoi vedere? Occhio, però, che nella prossima zona c'è gente Eh, ma non ci sono più Non c'è nessun momento Non c'è nessun momento Puoi andare alla jump power Eh, eh, vai a luttare se vuoi, se vuoi, però Guarda la jump power Tsubasa prima un po' arriverà, no? Sì, sì Lì Andiamo dove? Qua? C'è gente verso i cerchi No, non vedo nessuno, sennò te li pingo io Qua c'è stata gente, comunque Eh, sì Ho studiato... visto Io non luto eh, io vado verso cerchie I can use that Ah No, io prendo quello Mi serve Che lì probabilmente c'è stata gente, no? Eh, però C'è ancora roba che mi serve, quindi vuol dire che... Ma Dario, che parte vai te? Oh Perché? Ma siamo... Devo pingato dall'altra parte Ok 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 Ma incontreremo qualcuno e moriremo Eh, Dario, potresti tornare con noi? Ma ci troviamo dall'altra parte Ma sei da solo, ti trovi già in te mori eh Ma... Quindi pensi che muoia Noi siamo andando verso il cerchio e tu non so dove cazzo stai andando Mi lascialo, tanto lui è così Lui c'è la testa come vuole Siamo così lontani Questo qua non ci sono stati eh È chiuso Qua sì, da me sì Perché controllo se me hanno scritto Oh, hanno chiuso Sì, hanno chiuso Oh, i testi sono passati Nooo, tu scherzi Don Lavorato apposta tutto il giorno Non sono mai stato Andiamo... lì? Sì Eh, perché lì c'è roba Mi sembra che hanno luttato C'è un nemico Dove? Cazzo Pochissima vita Scappa, scappa, scappa Scappa, scappa Tira i razzi, chico Tira i razzi, non ci vi ho Ah sì, sto ci vi ho Stanno sparando Dove sono? Pinga ma lì? Eh, non lo so Sono da lì Ah, sono sopra, da dove siamo arrivati Dove arrivare da qua quel figlio di puttana, che coglione Pazzato Downato, downato, downato Qualcuno mi ha downato da davanti Porco, io sono qualcunato da qua Come hai fatto il mio minco, eh? Dario, vieni a lutarmi, vieni Ma vieni qua, da questa parte Nooo, ce n'è uno che ci vede da lì Ce n'è uno che ci vede da lì Dov'è? Eh, sulla casa, sulla casa Eh, merda, mi devo caricare ormai Vieni dietro, vieni dietro, vieni dietro, vieni dietro qua Vieni dietro qua, vieni dietro qua Vieni dietro qua, vieni dietro qua Eh, madano ti muovo Ma te l'ho detto di muoverti Eh, Dario Non è che sono veloce come te Sì, muoverti Sì, non sono veloce come te Sono così Rili fermo A fare un cazzo Arriva Hai il drone? Chissà vita Chissà vita Chissà vita È morto, è morto, è morto C'è il drone qua Dove essere 6 lici? Morte tutti Quanti chi le avete voi? Scusi, non solo uno C'è zero Spero che uno era già morto Eh! Uh! Prendilo, prendi lì, c'è il logo, mi piace lo stesso Fuori di testa Oh, se tu passi Da me, da me Passi, 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 passi Sopra di me, sopra di me È il tipo con i grapple Sopra di me, sopra di me Lo vedo È scappato di qua È scappato di qua È scappato di qua, andiamo a prenderlo Allora Lo vedo Pinga pinga Ando ad altri C'è un altro Ok Preso 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 Gli ho tolto il 100 Vedo Vedo più Occhio, che sotto c'è un altro Eh! Che puoi pingare Sopra, sopra, sopra Dove sopra? Sopra, la torre Orco dio, non ho vita Orco dio, non ho vita Orco dio Non aiutare sotto a sciccola Aiuto, aiuto, aiuto 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 Ah, arriva il cerchio Cazzo Ho preso il banner Eh, sono giusto Dovevo prendere il banner Sì, io Eh, ciao Arriva il giro Quattro, io sono bello ripartato Io Dove? Eh, viene salvo Eh, viene salvo Eh Cazzo Sì In lead down range Sì 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 Erammo messi di sfiga con due team Erano due team, non ero solo uno Si sparavano a casa di loro Eeeh, siamo sempre lontani dal cerchio, ed io cane Oh, un Apex Pack remaining, vediamo che mi danno Bella merda, grazie Boh, questo lo vinciamo, me lo sento No, basta, sei veramente fuori Ah, è un gecko che ti vive in pancia Comunque alla fine giocare non cambia un cazzo Tipo, vedo che in ufficio magari alle 4 cominciano a parlare di qualcosa E finiscono alle 5 e mezza e non fanno un cazzo, no? Sì, sì, è vero Pertanto così gioco un'ora e mezza Che cazzo vuoi? Eh sì Beh, veramente non ha senso No, no Oh, la 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 Ma facciamo la rischiamo, andiamo subito al dom o cosa? Sì, dai Io però No, ok, dai Ancora, no, no Ok, dai, va bene No, io sono più go Io andrei E lì mi piace anche a me Qua dove c'è Però sotto dritto c'è sempre un botto di gente Se vediamo com'è quando arriviamo lì Sennò ci buttiamo tipo qua Qua non siamo quasi mai stati comunque Lì c'è un botto di roba dove ho pingato io qua C'è solo 6 rimanenti Ehi, bomb, sei tu il subus? Il subus? E mi butto lì, dai Move Ah Ok, ma perdone Bè Sennò ci sento in giro, ci sento in giro No Tutto per noi qua Sì, ma a volte non li vedi Ma ci sono, zio Zio? Io c'ho una wingman qua Te la do appena, trovo un'arma Ne ho due, zio Vieni Ma non la voglio No, no, qua No, ma scherzi o cosa? La prendi adesso, vieni qua La voglio Zio, wingman è tua, eh Io non discuto neanche su queste cose Questa è la sensibilità Fire round burst, I read a fire Vieni la pinghita Sì, ma aspetta, aspetta, giro, guarda qua Guarda, ti faccio una sorpresa, guarda Guarda qua Eh là Eh là 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 Mi ne prendo te lo metto lì C'è gente, diocane, dai Mi ne prenderlo Mi ne prenderlo Ah, ma non c'è Non so neanche cosa ho preso No, ma tu sei bastardo, eh Eh, io vado lì a luttare È preso sta wingman o cosa? Che io non gioco senza di te Beh E quello mi servirebbe, ne Però non ci vuole tornare indietro, ne Tornare indietro Tanto lo troverò C'ho il charge rifle Io ho qualcosa anche qua per Satoshi Ho il charge rifle, il charge rifle Eh, ma tu fai questi regali che Adesso ho bisogno una Ho bisogno una R301 E questo lo prendo io in caso che ne trovo una In triple take Quasi quasi Se non lo prende Tsubasa Lo prendo io Anzi no Turco charger Charger rifle lì Io vorrei un R301 Adò Ho un R301 Ho un R301 Ho un R301 Ho proprio visco l'R301 È un treno Un R301 Ho un R301 Ho un R301 e caso volete fare un'altra partita che si scappa dal cerchio bisognerebbe entrare io mancano tre ore però io vorrei andare al centro non solo dentro così scappiamo dal cerchio moriamo così un processo dire che è emozionante o due a invil se volete è emozionante qua ce ne so ce n'erano di a guarda che il treno è ancora non è aperto roba sul treno o guarda qua che bello l'armatura viola veramente da dio ma e nessuno è nato sul treno e dai andiamo allora o ora non la vuole nessuno io non ho un casco qualcuno mi trova un casco di ocane io entro nel cerchio cazzo io vado ciao andiamo e calmo andiamo di qua carmi avete? ho un alternator ho un alternator e non ho un casco io c'ho due invil se volete eh zio ti abbiamo pigato lo splitfire se non lo ascolti? cazzo i tuoi zio cazzo che caratterino eh ma è bello per rompere il cazzo l'hai detto dieci volte ti pinghiamo cose non le prendi che cazzo vuoi porco dio non avrà finito il ticket lui eh infatti io vado su qua a spallarmi che cazzo me ne frega siamo già dentro al cerchio ah finalmente me lo prendo quello tutti e due io ci aspetti no lui di fretta che bomba ah no non mi serve non mi serve forget that i can use that looking for sniper optics thank you bello vedere il casco che sensazione nuova e il casco quando lo metti suu sta veramente duro che fa quel rumore tu 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 trust in the old father need an extended mag for my energy with us new kill leader appointed be aware of the new kill leader Biskiba here Biskiba here Biskiba here Biskiba here Biskiba here Biskiba here Biskiba me la prendo intanto anche c'è un charge rifle eh ma ho un alternator mi fa cagare I 다음에 quindi a bills la ma la compet leadership c con c for e cazzo quello per l'area 301 ragazzi siamo un po' vicini che tra un attimo sicuro arriva qualcuno tu che hai aperto? si ok ma veramente hanno aumentato l'area 301 e però c'è l'area 99 dai oh grazie ma io sono un amico man si questo asci è bello lontano eh io ho paura dentro il cerchio ok quasi non c'è niente io vado verso il tatoshi mi fa veramente paura ho bisogno di nemici siamo veramente vicini adesso eh siamo vicini zio cazzo appena buttato il linevill l'hai preso zio no dov'è level 2 e non è stabile perché fanno cose dieci piani e puoi cederne solo due avremo bisogno di un palazzo che possa andare sul tetto perché abbiamo le abbiamo i charge rifle che non è aless possiamo usarli dall'alto eh sì siamo vicini zio dove vai ciò da l'altra direzione comunque il centro se volete fare veramente i furi ok e quindi se vio non vuole il charge rifle così ce l'avremo in tre cosi che facciamo male allora ciao zio siamo in tre che ce l'abbiamo eh 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 dobbiamo andare su un palazzo che ha il tetto si può vedere tutte le direzioni ora andiamo in un palazzo che non riusciamo a sparare perchè vediamo solo da una parte e non so quale che c'è al tetto, c'è qualcuno qua oh sono lontani allora perchè li spari da lì? concierto il iphone zio e ok ma dopo lo down e dopo si fa restare per romper il cazzo questo non mi serve comunque sto arrivando da lì e vedo spari di lì 92 si la faccio solo per divertimento che cazzo tene quanto sono lontani qui stanno bene dove siamo ah si cazzo tene sacca morto dai mi è andato l'assist è andato a te al kill penso c'è un altro dove 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 ah lo vedo ha pochissima vita però se esce muore mi sa che si è nascosto adesso io devo ricaricarmi porco dio ricordo eric c'è un'altra parte ma dietro muro trucco di white centro come dici te E andiamo Qui ce n'è uno Come c'entro il Serge Eh Non lo so, sono vicini Sono vicini Molto di brutto, 81 E che mi spara, porco Dio che male Porco Dio che male Mi medica Dove erano? Dove erano? Devo Fionix Kid, vieni nello stabile Non so, dove sono? Non posso passare di qua perché c'è qualcuno Arrivano destra Che caricando, aspetta Mi mettono niente Ok, occhio a passare di lì Corri, corri, corri Stai imparato Salta dietro al muro qua, eh Salta via al muro Scappiamo, scappiamo, scappiamo Ma sono sai Come sono questi stronzi? Non lo so, però E qua siamo esposti però No, però finiamo sulla torre qua Li vediamo arrivare Qua non ha ancora lootato nessuno Mervosissimo Beh Io non ho ancora colpito nessuno Proprio neanche voi Sei andato il chilo o no, Silvio? Sì, sì Da Come andiamo sulla torre? Ma anche star qua dentro Io sto bene qua Guarda, vediamo su inferti intanto C'è, c'è, forse fa male E facevo il figo Mi divertivo La fosse se divertiti loro con me Andiamo se vediamo qualcuno da qua Pinga se vedi E non sparare, basta Se spariamo insieme sono morti Se spari da solo no Aveva un drop qua, eh Non andiamo a prenderlo Hai bisogno di roba Abbiamo già roba mega potente, no? Sì, sì Usiamo con me Comunque tipo lì ci sono nemici dietro lì A me farebbe comodo un... Andiamo al centro? Sì Eh, ma allora dobbiamo prenderle le cose, no? Andiamo al centro, andiamo al centro Sì, se vuoi C'è una sparia in questa direzione prima L'ho già qua Sì, anch'io vengo su Dove, 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 dove? E la granate dentro lì E non ne ho più Mi hanno fatto male Andiamo sopra Lo vedo, lo vedo, lo vedo E io mi sto riparando, non posso aiutare Porco, io là dietro Porco, io, ma non ho fatto malissimo Charge rifle Dietro Fingate dietro, eh Medica Rivano Eh, mi stanno sparando, porco Dio A uno Lo vedo, lo vedo Dio Dio, che cazzo è? Ah, già, già Ero sul vita Eh, non posso scendere adesso, raga Porco Dio Dio, ok, ne chiamo un gol, era un po' il sera Spaccagli la merda Spaccagli la merda C'è una granata, non ce l'hai, no? Morta, morta Lascia le ammazzate loro perché Eh, ma io non lascio i miei amici così Dove è che possono salire solo da qua, no? Sì, sì, devono andare su fino alle corde E poi tornano su, tornano giù Stanno salendo Oh, ma io non lascio i miei amici di scorta Eh, non ne ho zio Eh Morto, 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 morto Grande, grande Ho le ame di callo, lui, fuori Arriva al cerchio Prendi anche l'altro shield, prendi anche l'altro shield Casomai ti rimane un HP Oh, ma c'hai lì, quello di scorta Non puoi perché ha di meno A meno che lo droppi e lo riprendi Eh, qua sopra si sta bene Wow, è quello di prima, questo Non è ancora morto Ce l'ha anche lui, il charge rifle, penso Sì, ma vai shallow Era mega esposto, lui No, sta arrivando qualcuno, forse Questa faccio male Prendi il caso blu È easy Ecco Le squadre Sono vicino al cerchio Eh, salto giù e son dentro, no? Se salti giù sei morto, però Eh? Aspetta la fine Perché sono tutti che aspetta da che te scendi Davvero Guarda giù, guarda giù, guarda giù a sinistra Eh, ma io ho paura Guarda che magari sei dentro Guarda giù a sinistra, la prima scelta che sta correndo là Eccolo, guarda, i due Che cazzo ero? Che cazzo di arma aveva? Eh, il charge rifle, ma anche a me prima, mi hanno fatto un colpo e sono morto No, era un cover Eh, allora anche a me prima Perché a me, io ero full vita, mi hanno dato un colpo e sono morto Secco proprio Cioè, non ho potuto fare niente Ma perché non devi continuare a muoverti? Perché se no ti mirano in testa e sei morto Eh, ma io Giù, 120, vediamo Io sto cercando di tirarmi uno shield Pensavo di essere coperto Invece c'eravamo un team davanti Un team anche dall'altra parte Eh, dovevamo salire tutti Ormai Quando puoi salire in alto Sei sempre in avvantaggio Sempre, sempre, sempre Quindi se puoi salire in alto Sali Ok, elevation specialist Cazzo, pensa di essere su, tra quei charge rifle, ciao Ciao,one Perché anche se ti colpiscono vai down e l'altro ti salva perché non ti possono vedere da sotto Quindi Eh, sì Devono salire Per quello che dicevo, c'è che è un palazzo alto Ma perché ne ho ucciso solo uno, ne ho uccisi beh di più di uno Eh, down magari Però è vero Anch'io ti ho visto che ne ho ucciso più di uno Ma, tipo Boh, almeno tre Esatto, anche io penso due o tre Tre Due ti ho visto ucciso Quando ero morto, quindi sicuro almeno due Eh sì, e uno l'avevo ucciso già prima Prima Cioè prima di salire lì Mi pare, no? Boh Eh, chi se ne frega Sì, sei fuori, man Sei veramente fuori Io il team di negri Io sono sicuro che il tuo è negro Sì, è garantito È garantito Si copre perché Ma va Ma non è per forza, eh Sì, è per forza Ma va Adesso non fare il bastardo Adesso chiamiamo il team, il nome del team da pirli a negri Ma va Uh, mi fido di messare se tu ci c'è Uh, il dome No, il dome, no, il dare non piace Ah, ok A me spiace lì Però Perché dopo vai là e gli altri si sparano e sono morti Eh, allora lui non piace, a quanto pare Dove? Eh, dove, dove, dai, succhiami la merda Va, il bastardo Putti, putti lì No, ma, eh, ma lì Ma io però devo buttarti qua Drill sites, io voglio drillare Eh, ma è troppo tardi Dov'è il treno? Dov'è il treno? Oh, là, è bello, là c'è roba, là c'è roba Ci arriviamo? Io andrei qua Qua che c'è il treno, zio Che cazzo se ne frega Vai Eh, ma arriva comunque il treno qua, no? No, va di là, zio Dove C'è gente, Lario, c'è gente Tutti meglio Bella giornata di merda Eh, sono sotto di noi, sono sotto di noi Eh, andiamo a prendere il treno se vuoi Ma va, adesso c'è già un altro team Ormai, due team Ecco Bello Ok, bisogna buttarti più in fronte possibile E buttare più in fronte possibile Ok, dov'è? Eh, sono già a terra, Mennari Dove sei, dove sei, dove sei? Mi rimane una mappa Ok, posso salire da qua? Relocando Ho sbaglio C'è fatto il mio amico? No, è l'altra parte, Diokkana Sento passi Grande, così impara, Diokkana Che cazzo mi hai fatto, eh? Spacchiglia la merda Porco Dio Eeeeh Eccoli, ho voluto un HP Con un colpo è morto, vaffanculo Ok, ormai quello che, quello che a terra Se a culo che c'ha l'arma potente Ok, io avevo una, una wing, eh non una wingman Quella rossa di merda No, io ero messo bene Però, cioè ero messo bene come armor Perché avevo un armor viola Però avevo armor del cazzo Eeeeh, ormai c'è, c'è volte che stai bene C'è volte stai male Questa è pensata bene, eh? Questa qua l'ho detta, veramente Questa, si vede che Secondo me hai sbagliato era Tu dovevi nascere in Grecia Sai, fare il filosofo Cioè, c'era Eh? Sì, 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 sì Ma no, ma è vero Sai, c'era Socrate Poi c'era Janatz Quello è vero Non ci avevo pensato neanche Non ci avevo pensato Ah dai, ancora 400 HP lì E poi salgo di livello Battle Pass Magari mi danno roba figa Eh, buono Non è che ogni livello Danno tanta roba Ti danno un nudo e cose Ma perché devi parlare così? Eh, ma perché ti dico la verità Mi rovinì la giornata Non voglio che ci rimani deluso dopo Ti avviso Eh, però preferisco Sognare che Però penso che più sali Più la roba diventa Figa Grazie al bungalow comunque Eh, ho 700 di quei cosi di metalli Me ne serve un mille e due Ma voi non lavorate tutto il giorno? Com'è che funziona? Ma io faccio un po' quel cazzo che vuoi Tra un po' vado a mettere in aria Ma cosa? Guarda che le persone E' un po' che non vado in treno eh Oh, lì sapete che mi piace Però non vado un po' vicino Oh, Dom? Dai, Dom No, no, no Eh, ma è meglio È meglio lì nel pirlo eh Io mi fido Oh, oh Vuole capire, capisce No Il treno non lo abbiamo ancora visto Il treno è un po' che non vado in treno eh RC E via Sicurazione? No Eh, ok, lo andiamo a cercare Eeeh, c'è un finito fra di noi Però proprio dietro di noi Quello è vero Sopra di noi Staccatevi eh Dopo andiamo nei cosi separati Ti prendiamo tutti Sì, ok Allora Io vado in mezzo Io davanti allora Vado qua Sono davanti, sono davanti No, sono sul tezzo contro loro Non mi vede Cogliono, c'è uno qua Che ha mancato il treno Quello che era con me L'ho ammazzato Vado a esce il livello 2 qua Che è il 2 Vado a esce il livello 2 qua? Eh, io ce l'ho già Bastardi, chi ha vinto il treno? Eh? Io non ho Chi ha vinto il treno? Eh, ma sta tattica è mestiale così Sarma e Mattia Simonetti V-2020 Sarmi del cazzo Saltiamo giù Cosa c'è qua? Eh, qua adesso non più niente Stiamo andando lontanissimi dal cerchio Ve lo dico subito Eh, ma fa niente Saltiamo giù qua? Oh, qua si fermano Qua c'è roba, qua c'è roba Qua c'è roba Guarda la finisca qua No, no, ma non tornare su Perché va ancora più lontano Ma io il 3 non sto bene però Fischio e io voglio salire, basta Ma attenti perché qua sicuro c'è la gente, eh È l'inferno Oh, ma Eh, no Non possiamo restare sul seno Ah, era da 101 Ma tu sei bene Eh, mio Preso io, preso io Oh, ma c'è gente da me? Ah, porco io, sei tu, croccio Sfaventi Oh, io sono sul treno, cazzo Non c'è nessuno qua Che cazzo è? È lontano qua, eh Io vado, ciao Dove? Eh, no, io vado Ciao Oddio Non è che scendere Oh, no Vedi che tu che qua è tutto Non è lottato Non c'è nessuno Eh, sì, perché ormai qua è lontano, lontano Dalla Eh, no Non siamo mai andati Eh Eh, dobbiamo muovere il busto dopo Ma boh, ci sarà una tower o qualcosa Noi siamo abituati a fare queste cose Eh, mi sono mai pro Oh Oh, avevo tre finish kit perché mi buttavo sul treno a casa Oh, prendo io Eh, un longbow Lascio un triple A Sì Comunque il charge rifle è troppo potere Sì, charge rifle di una scravità Nessun La merda che Cioè È OP per tutti Quindi una merda Cioè io vorrei che lo Mettessero a posto Sinceramente Io andrei nel cerchio Sincero Che è lontano Iniziamo andare Altro Siamo dai Sì Però dobbiamo fermarci oltre dall'altra parte Prima o poi perché Non è chi si è messo molto bene Non so voi Io sì, bastante Nel senso che ho le armi Che ci stanno Però non ho nessun Hop up o attachment Qualcuno qua sotto mi sa Li sparo perché Aspettami un secondo Anzi Li potrei sparare in testa E adesso E adesso è andato giù Occhio ce ne sono altri Mi sa che ci hanno visti adesso Sì eh Ma non ci ha visti Andiamo giù Risistiamo Guarda sta arrivando un altro lì È arrivato un altro lì Dove? Sopra qua Ah sì lì 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 Occhio Ci buttiamo giù Andiamo Ehi sono andato giù cazzo L'ho visti Sono giù io eh C'è pieno di gente qua No vieni su Torna su Come faccio? Sono lo schemi E non lo so Vengo Che è dietro? Che cosa fa il mio amico? Ah ok Vedo una Una fune Arriva su È prima di domani Eh eh Ho dovuto ralla fune Che arriva al cerchio porco dio Che facciamo dobbiamo andare Eh andiamo Mi ha crashato steam di merda Io cane Io sto andando di qua Sono mega sposto ma me ne f***o Mi sentite qua almeno Sì 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 Corri 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 come se non ci fosse un domani Boh il cerchio è mega vicino Oh qua c'è gente Stai facendo vedere una cosa Probabilmente anche sotto di noi No Dario Guarda che qua ci sono dei cosi che sto aprendo Ma quelli dietro di noi non me ne frega un cazzo Eh non molto E te? Eh dom ci prendono da dietro allora Sì ma in effetti non sono tutti torti eh Il nostro silvietto Cioè lo sappiamo che sono dietro Ah ma poi li avevamo tanto di brutto quelli eh Quello è tutto mutato comunque Sì ma avevamo gente dietro dio eh È qua è qua è qua è qua è qua è qua dentro Cioè lì c'è un botto di gente eh Perché ho visto uno che è arrivato già adesso Com'è qui? Qua 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 guarda lì uno Un altro qua Noccato Dove? Qua, qua Ehi, no, no, da lontano, così È nel cerchio Io sì Io sì Uno qua, Dario È nel cerchio, è arrivata un attimo Ma guarda che c'è gente che sta arrivando qua, eh Oh, fate voi Dove c'è lì, eh Dove? Oh, Dio Devo lootare, zio, non ho un cazzo Ma secondaria è dell'asilo Non c'è niente, niente E adesso arrivano anche dall'altra Esatto, vedolo, vedo Adesso lo prendo, zio, guarda, eh Vieni qua, coglione Fatto un amico Stiamo in cerchio o facciamo un cazzo covaletto? Sì, andiamo, andiamo, andiamo Vai, tolgo a tutti ma non posso ucciderli perché il mio amico vuole andare nel cerchio Guarda che lì si inserisce Non lo so Non lo vedo e non ho armi da lontano No, te lo dico, non per ucciderlo Stiamo nel cerchio, stiamo nel cerchio, vai Merda, merda, merda Dove, 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 dove Mi ha preso Eliminato, che culo Ah, là davanti, lo vedo Che c'è la vita, mi destroia Sti andendo qua Da, sto da venendo qua, eh Sto Mi vediamo bene Io vado un po' più largo , Sto sopra al... Vedo 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 Non canto rentar moet In ro E' lì eh? Fingalo! Come si sta medicando? Qua! Troppo Dio! Questa faccia male! Trone, trone, trone! E' un po' di morire, l'ho fatto! C'è gente da me! Mi fattano amico, eh! E' ucciso! Arriva! E' ucciso! E' porco Dio, non ho dovuto salvarti! Dio cane! Porco Dio cane! Dio cane! Dio cane! Lì chi le putt' han fatto il giro da fuori dal cerchio! E' mister! Grazie a tutti. 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 Porco Dio. Grazie a tutti. 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 Andiamoci a tutti. e se mi trovate sarai felice round 2, beginning ring countdown backpack non lo volete quindi io un backpack oro adesso buo prima linevilla è fuori dal cerchio guys io non me lo prendi lì si è appena fuori io ho piangato uno sniper 4 da prima a prendere l'anvil che mi hanno buttato a santa merda ma cazzo ci arrivo lì qua dentro del sonnidario è pieno di questi sento qualcuno col cell rifle perfetto oh ma andiamo a combattere che io qui a codio che spavento zio dillo quando spari ste cose che mi fa veramente spaventare io viva ok hanno risuscitato qualcuno eh ok prendiamo il pallone e però dopo ci vedono eh gringo ma voi non lo vedete un cazzo c'è qua è pieno di case non lo notate io salgo non me ne vedo un cazzo no 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 zio c'è gente di là eh quindi hai paura a tren c'è gente occhio si stanno anche sparando e cominciamo andare nel cerchio si sta sparando da dove pinga i 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 ho scritto nel gruppo alle otto e mezza e lavoro da lì eh eh quindi starting server ma non è vero però è una bugia io ho 725 di quei metalli di merda ne ho bisogno di 1.2 porco di voi io l'avevo presa non mi ricordo più penso con i con le challenge ma anche il dario ce l'ha credo cosa? la skin che abbiamo noi di blowdown l'hai presa la tua l'hai presa con i metalli ma la va 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 ve va va vi 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 qui Puaaaah sta musica Puaaaah This is your champion Vedo Dome Bello libero No, non voglio io In realtà non piace il Dome Anzi, scelgo io e non vi dico dove si va Ok, vai Questa è corta però eh Nooo, ecco Sì sì sì, e dopo ne facciamo un'altra Ah andiamo giù qua a treni, ok perfetto Sì sì Troppo presto, più cane, vai Stiamo vicini perchè E' pieno di gente sicuro Dimmi dove vai allora perchè sennò E Ok Va Merco dio già Loot No 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 e lasciamolo farlo solo, che cazzo te ne frego puoi prendere il treno? no? non sul treno e ce la faccio? stoppamelo, se no riesci a stopparlo? forse riesco a salire, forse riesco a salire riesco a salire, non fermarlo, riesco su bella c'è stata gente qua poco tempo fa ci siamo in mezzo al cerchio, dove andiamo? e andiamo qua andiamo, ditemi quando scendete aspetta, guardo dove c'è gente andiamo qua, no? facciamo un best player al centro si, si, è vero, scendi, scendi, scendi va bene sul treno però eh si, quello è vero e stai da dio, lì si? hanno già luttato qua, mi sa eh non c'è più niente andiamo nell'altro stabile qua? anche lì, no, no, no guardo per sniper optics e io ho pochissima... io non ho niente, ho tutto roba merdosa anche io anche io boh però ho un castoro vieni a luttare, ma dove? mi giro un po' a casa, finché ah che roba ormai vado in quello l'ho già detto io l'ho già detto io porco dio e un giorno ti spacco la faccia, zio però ormi veramente di merda lì ma io non ho niente evita sì sì, ho solo pingata più dry falanchi di porco select fire select fire dire oi lì ci stanno ammazzando eh chi? tu si spara col search rifle non noi, no? lì la veloia deve andare via da qua perché c'è uno con search rifle che ammazza la gente davanti a noi ah qua sotto è pieno di cose non aperte sta solidario sento veramente bene quei present sento gente che sta usando e non far capire dove siamo una tattica quella ne io ancora armi di merda non so voi anche io una emlock una emlock è una eva 8 ah bella prendo era 99 guarda una prall guarda qua evi da di spu ho un'amno qui ancora un zaino dai come no oi che fa oh adesso ho un'amno qui ho un'amno di mag sto per questo palazzo non ce l'avevi alle che racconti sempre io ce l'ho appena preso io ho il mio potere potrei usarlo e vedere dove sono tutti io ne ho visti uno giù l'ifondo dietro si parla praticamente non andiamo eh a staccarli quindi io rubi tutti nelle light non ce l'avete c'è non ce l'avete c'è nuca il leader watch your six aller boh mi ha vinto fatele mette la letra 101 qua oh arrivo prendo io ah ah no no ce l'ho già poi ce l'ho già io ho bisogno di uno nightroptics rovetemi provate e vedetemelo eh si non ne ho tantissimi ma te cazzo glielo ho pagato un milione e non li ho presi eh non li ho presi perché non avevo spazio prima e mi servono in the light A salire di sopra qua? Ah si Ah si, bravo Occhio a lei hai visti? Si si Che ci hanno visto anche loro Andiamo ad aspettare sui palazzi? Sì Ah io non ho niente per curarmi! Noto adesso che ho cane Zero di zero Ok Erano vicini Andiamo qua Prendi, ce ne sono ancora quattro Guardate che non avevi niente E adesso lo sei Anche qua la deathbox, è pieno di deathbox qua Un altro muore È il loro, il loro cazzo di cosa Comunque quel coso lì ti protegge dalle bombe Che cosa? Ti manca a noi? Un po' solo la sua squadra Penso di sì, perché no? Oh Sono morti alle metri di chat Non è che sparano? Vai adesso attacchiamo però eh Ma che sparano? Fammi controllare se non ha scritto Ok, che lavoro più tranquillo così C'è un ultimate che mi carico e guardo dove sono? Si spronzi Ah guardalo lì, guardalo lì Tacco! E io non ho armi da lontano E io non ho armi da lontano Sei l'unico E andiamola allora Andiamo L'aspettate Questa c'è un danno Aspetta che le tiro la mia ultimate Ehi Sì Fotto o botto? Un tanto ha risolto quello Dio Un'altra squadra penso Mi sto curando Mi sto curando, mi sto curando Questa mega foca, poca vita Ho capito cosa? Non lui, l'altro Dio caro, merda Ehi, faccio un po' di ridare Eh, però... Mi trovo interessanti E ancora una, allora? Ma guarda che sei oro, grande Però l'ultima, veramente, adesso Facciamo veloce, dai, io devo lavorare, sennò Sennò cosa, dai Oh, ma era bella questa Anche se non abbiamo visto nemici Fino agli ultimi trenta secondi Siamo morti tutti di colpo Eh, ma il charge rifle di Okane dicevano che lo... Murfavano, ma non l'hanno fatto C'è codio Il longbow che è la più potente che c'è Di quelle che non trovi così Toglie, cos'è? 50 Usi il coso 100 C'è codio Ci fiammo Etexto Ci fiammo Ci fiammo C'è codio Giordata Giordata Giordat Giordata Non lo spiega insieme, ricordatevi! Vi copiare la musica da Stranger Things e come cazzo vuoi allora Comunque qua sotto? Ehm, sotto, si ma non vanno dove vanno, vediamo loro, però nel ghiaccio E diruttano, è che non c'è nessuno, è impossibile, sono cose a volte che sono impossibili ma succedono E' vero Quindi un'arma? Ehm, se vuoi non le devo uscire ad arti Abbiamo un rifle qui, prendo un po' di calma, ma molto potente La bomba almeno è una roba di 45, dai la faccola Il primo blu, si fa come la victoria Ehm, perchè, perchè, dai Ehm, sto veramente male Ah, quindi Janaz viene dove sono io No, sei mega simpatico E tu che stai venendo dove sono io, gran petto di cazzo? Vado giù sotto dritto Ah, ma sto là Tu mi hai schiacciato da un'altra parte Ah Oh, mio Dio, dai E lui andava giù Vado già sotto dritto Ah, l'ha già preso il Dario Non reclamo Oh, qua, se volete E' meglio di un cazzo schiacciato su nel desert Ho rischiuto la merda, no? E' triple take Gli energy sarebbe anche mica male Oh Ma io non ho un po' di shield Oh, mio casco Oh 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 Mi ho un po' di shield Gli ocani Body shield caschi Ah, niente, provato Level uno Me lo do cosa Ring far, quando lo dice non mi piace Quando lo dice così Oh, buona verba ok orco dio e dobbiamo andare alla lontano qui qua c'è una cosa prendiamo la jump tower dove? non mi nascondo ti vedo o no? eh sto per morire, sto per morire eh ciao in due almeno vengono qua il cerchio da lì la stanno lutando? muori no? sotto stanno lutando tutte e tre che c'è qui fatto il mio amico eh? ma che rimane? down 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 rimane uno rimane uno grande morti tutti l'ultimo è andato sul tetto no? eh c'è uno che... eh arriva il cerchio prendi il mio banner aiuto eh c'è uno che ho perso hai preso? hai preso? si si hai preso il coso andiamo alla jump tower zio andiamo alla jump tower si 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 merda 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 quant'è pace ma anche se siamo un po' fuori fa niente dopo con la jump tower niente ah ma voi state veramente ma veramente bene spitfire cazzo spitfire force for cazzo no mi devo mettere un shig group qua quanto lontano? tu hai da curarti perchè io... mi buttaci un coso con la Q per curarci eh 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 cazzo ah no ah no no usami il coso ti dobbiamo correre non ho niente per curarmi te li ho troppati te li ho troppati porco dio eh non rivivetemi sennò che no vado in cerchio eh eh puttana la padonna affetto mi sto cagando in mano eh c'è un po' la jump tower la vedi ma lì 3 kill che ho fatto attacco beccami il bastardo che c'era la mia lingua eh se qualcuno mi vedi son morto eh perchè non ho scutono un cazzo nooo ah medico veramente da dire si appena entrando al circo un medico ma se mi vedono adesso ciao iiii ma tu stai veramente bene bene ok 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 che nemmeno ci siamo vuoi andare dietro di noi ah ma c'è un altro no l'ho ammazzato l'ho ammazzato hola beh ma voi nooo ci siamo ancora all'ampanizzi ma zio dai boh c'è tempo adesso dimmi dov'è corressarlo ah qua andiamo adesso allora aspetta mi eh sono mi sono appena curato leccami il bastardo ah io ho preso il palo in faccia dimmi quando mi rivivi così è adesso ti sta rivivendo adesso eh mi stai sparando eh ciao non rivivermi oh rivivimi se vuoi ma lo vedo ah non rivivimi sta venendo a te sta venendo verso di te eh oh merda che amico che amico che friend aspetta ritira una ultimate ti lo vedi pingalo eh beh io ormai ho bisogno di un'arma andrò a cercare ok i return to the hunt no no caos intanto dove stai dove stai ah la stai combatti è bassissimo è bassissimo è bassissimo è bassissimo hai un'arma silvio no non ho ancora un'arma è qua vicino a me è dietro la casa è dietro la casa cioè se come fai ad essere ancora morto merda charge rifle dietro Dario no no non qua non qua ecco stai lì stai lì stai lì stai lì charge rifle Dario scappa 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 eeeh dietro Dario dietro Dario dietro di me eeeh stai sparando da un nato eeeh io ho fatto un cazzo sta partita mi dispiace veramente mi sto male così e allora un'altra c'è l'ultimissima veramente c'è l'ultima che ci sono io cosa? c'è l'ultima che ci sono io se no eh sì pratica sì eh non è che facciamo l'ultimissima veramente adesso? no dai dai ti prego no cosa no? sono solo le 11 cioè eh l'ultimissima no adesso veramente no adesso però veramente no adesso però veramente eh ho fatto gli scherzi ah ma cazzo in tiro cazzo in tiro ma va ma va ma va la 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 Prendi la ragazza, vedrai che bello! Sì, bellissimo! Puoi giocare quando vuoi, non puoi fare un cazzo, dai! Oh, ma veramente, questo è veramente male! Laccami il bastardo! Eh, il mio cane ve l'ho incazzato, eh! Hey, stay on me, I'm the jump master! Subus! Dove ti butti? Oh, il dom, dai, ti prego! Eh, va bene, dai! Ci arriviamo, almeno! È lontanissimo! Tu ci arrivi sempre, tu arrivi ovunque! Eh, ma non so, è lontanino, eh! Io mi fido! È lontanino, eh! No, 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 no! Eh, vai, proviamo! Al massimo andiamo all'accettare lì da me! Sì! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Eeeh! Eeeh! Ci sono altri dei venti che si buttano qua, eh! No, non ci arriveremo mai! Però possiamo prendere il trucco del... Come si chiama? Levriero! Il trucco dell'evriero! Dai, c'è un trucco dell'evriero! E non vuoi luttare prima qua, no, eh! No, tutto l'evriero via! Senta, dove siamo fuori dal cerchio? Ormai noi andiamo sempre più forti, come dei coglioni! Però magari una volta ci lo vedi, il cerchio arriva qua! Quindi arriva l'unare da solo! Dai, se c'è giro gente! Cosa fa? No, ma tutto è scemo! Ma almeno siamo quasi sicuri che non c'è nessuno! Il cerchio è qua! Che bello! Che bello! È vicinissimo! Oh, che caldo! Che fa! Tu vai a destra o a sinistra? Tu gira verso destra, io giro verso sinistra, ok? Così meno non ci intralciamo come sempre! Eh, ho già una granata, abbiamo vinto! Per forza! R99! Può dissi il livello 2! Tu stai bene, tu stai bene! Revolut 57! Tu stai male o? Ma guarda, io sto... ma se non sta bene, se mi taggiamo... A! Ce l'ho! Dove c'è qualcuno? L'air at the 101, no no no! No! Tu stai male o? No! 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 2 Se vedete un sniper di questo tipo, ditemelo! Quindi nessuno lo vuole! Che cos'è? satoshi! E io ce l'ho già! Cosa? Body shield livello 2, non lo vuoi? gewesen? a me sembra che devo fare un po' la baby shogher! ma che devo fare un po' la mag...... eh, però zero, vero te lo dico. communities Aspetta, magari qua? No. Un charge rifle. Andiamo a andare. A me il barrel stabilizer ti giuro che mi fa venire troppo il piccio duro. Eh, sull'area 301 ti cambia l'arma, è fighissimo. Ti cambia l'arma? Eh, però c'ho la Spitfire. La Spitfire l'avevo avuta prima... Devo dire che faccio fatica a decidere quello che mi piace di più. Ah, guarda qua. Vai, triple take. Ah, lo preso io, vai. Te lo lascio. Ah, no, no, vai, 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 vai. E non ho munizioni per il triple take, non fa niente. E io non ho un'arma da zoom. Come la troveremo? Guarda, tieni. Ah, ma si avvicini al cerchio, non mettetemi pressione. Allora io lutto qua. Anche lì si potrebbe luttare. Siamo a tempo, eh. Boh, ma non luttiamo, Dio Khan. Andiamo ad attaccare, che non c'ho proprio voglia io. Aspetta a chi prendo queste munizioni dal cazzo. Sto sparando, eh. A chi? Sto arrivando, è stato dietro di voi, non sono così vicino. Sì, ma vai. Sniper stock, che cazzo. Ah, quello me lo prendo. Cazzo. 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 Eh... Amo. Vado a luttare qua, eh. Me ne frego. Sto sparando. A te? Eh, sì. Non so bene da dove. E torna qua. E torna qua. Allora. Allora, ma aspettaci, man. Sì, sei lontanissimo. Ok, io vado qua allora e li prendo da vicino. È in onora, mi da zoom. Due squadre, comunque. Due, lasciali sparare tra di loro. Esatto. Ok, lasciamoli. Lasciali stare. Ma io sto bene. Cazzo, perché andiamo? Allora andiamo, andiamo allora. Eh, io non ho uno zoom per lo sniper, non so voi. Sono messo, ma non so male, come attachments. Ah sì, lì. Sono tutti su lì. È easy. Cowler? Oh, no. Ma non hai il firexpile, mi fa cagare nel mondo. Ah, non hai il firexpile, pensavo. E che stick potrei prenderlo, porco io. Ah, sì, non so più. Che ti passa a chi, ma? Sono. Qua. Sono. Oh, no, no! È lì. Non l'è, non l'è. Non l'è. Non l'è. Non l'è. Dopo vabbè? Eh, forse vedrete. Sì, sento anch'io. Ho sentito anch'io ma non so dove. Ah, lì. Oh, Dio che male! Oh, Dio che male! Dal davanti, dal davanti! Ho perso le vibes! Ma vaffa! Vieni, vieni sotto qua, vieni sotto qua! Vendimi il beacon! Ah, ma sembra io morto, morto! Anche dietro, eh, dall'altra parte sparavano. Sopra di te, Mattia, muuva il culo. Eh, lo sanno che sono qua, stai calmo! Eh, adesso mi ammazza però! Eh, vaffa! Sì, che sto sempre, vai! Io ce l'avevo! Io ce l'avevo, ma è lento! Anche tu! Eh, ma questa è la cosa! Ok, ciao Dio! Io gioco con me! Dai, io vado! Dai, una, una! No, no, basta! È ok, veloce però! L'ultima, la vinciamo! Te lo dico! Però velocissimo! Sì, sì! No, la vinciamo! Non sarà mai veloce se vinciamo, eh! Beh, ma nel senso ci buttiamo in un posto mega comune! Eh, tipo, dove vanno tutti! Tipo il comune di Tenero! No, veramente devo andare, sennò non finisco più un cazzo qua! Mi giocare il comune di Tenero! No, ma te sei deficiente! Find... Find... I'm prepared for the fight! Vì... Non c'è qualcosa come cold steel su un hot day! Vì... 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 questa sera giochiamo ancora due ore o tre voi non potevo giocare così tanto è di solito Sai dove andiamo? Dove? Therman Station! Let's go out of here! Eh, ma non andiamo niente, guarda bene Hold on tight! It's time to drop shot in one... Negative! Che negative! Eh, il conto c'è un po' trovo bene Eh, ci sono altri team, ci sono altri team merda di culo Questo che non si stacca, che porta? Sto facendo contatto qui Hai bisogno di aiuto chiama, eh? Non ho bisogno di un cazzo Tu vedi gente? No, io sono sopra A lì Ok, ora vado là Andiamo insieme? Aspetta, 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 non ho armi buone io In una flat line Dove? Arrivo, arrivo, arrivo Lui ha tirato un nemico, eh? Lui sta bene, andiamo da lui, andiamo da lui Stai l'ammazzato proprio Eh, ma non era da solo Oh, qua c'è qualcuno che ha portato un... COSO package Oh, oh, dai! Non ti metti, non ti metti Non ti metti Dove, dove, finca? Che non ci penso io adesso, dov'è? No Se tu passi Sono io sopra, eh? No, non solo tu la vita quello sono da solo da un però sono sotto qua nascosto viene vedi 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 no merda 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 questa è una vincevata avevo sentito dire eh ma ci sembra una zona molto alta o questa non conta dai sedicesimi sì che conta no basta no l'altra volta ne avevi detto l'altra volta l'ha detto se ci sono veramente esco sono uscito c'è stato io sei scemo di ho capo l'unice 10 ho lavorato un'ora e' bello malato per allora aspetta te la vinco io e poi ti mando lo screenshot quando ti fanno giocare contro i bronzi ma se sono più alto di te coglione di merda dai ciao zi ciao ciao come ti guarda un po' questo ah Perfetto Crazy Cat Jump Master Dai Sì, ok, sono sotto dove andiamo tutti, vai, buttati Siamo in 800 team Nicchissimo Il mio qua sarà un baceno Perfetto Merda Mazzalo, Mazzalo No, ma che down, si è fatto ammazzare che era un dom Non, non, non Siamo in uno Non andiamo Perfetto 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 Mari noi Perfetto 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 Sì 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 Let's go this way We're trying to do it Grab one Death is a paradoxical quest It ends ma non è mai iniziato ma non è mai iniziato Grazie a tutti. 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 Ok. 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 Ring countdown Who's ready to fly on a zipline? Oh yeah! Attention, there's a new kill leader Portal here, watch out for the new kill leader friend FIER! FRAG out! FRAG out! I don't give a shit to reach us. Ring's nearby. One minute till close. The ring is in close proximity. Less than one minute. Reloading. 30 seconds remain. The ring is nearby. I am recording myself. Reloading. Give me a sec. Recharging shield. 10 seconds. Ring's just ahead. Heads up. Dropping the pain. Give me a sec. Recharging shield. I am taking fire, friends. Taking a mech. One sec. Smoke out. It's taking it out. Carepack is incoming. Let's get to the LZ. Target spotted. Giving my shields a recharge. Opening fire on the enemy. Grab them. There's another squad attacking. People in. Recharging shield. Recharging shield. You got shields? Sì 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 Hostile spotted We killed the last member Good work team Only two other squads left Ten seconds Ring's just ahead Hostile spotted The ring's moving, friends Reloading Ah, cazzo Come parque And we're gonna win Let's do that Walk Outro C'è un bloccato? sono staccato? no, no, no 10 secondi, il ring is setting up a zipline Good job Damn man, that was good Puttana che cazzo di partite Good job Good job